Beh va sul lanciato dei salumi e ecco questo è il cambio su cui si può lavorare, ragazzi si può fare qualcosa di meno, è come tempo, ma fa lo stesso, oggi va tutto benissimo, immagine tutta su di lui, tutta su di lui, si rende conto un attimo dopo l'arrivo che l'altro può essere un attimo dietro, tant'è che mani nei capelli e qui la si rivede ancora meglio, proprio anche per il confronto con gli altri, sbagliano un po' i cinesi e così ci ripetono anche la medaglia di bronzo, Jamaica che fuori dal podio per il semplice fatto che nel frattempo arriva un altro giaguaro, Andrea Degrassi, il campione olimpico dei 200 metri, il terzo grazie a lino, la gara è finita Spalla sinistra per Filippo Tortu, a precedere, gli era già qualcosina davanti, la spalla sinistra ad anticipare l'incrocio con il fotofinish, resta per un attimo a guardare, qui diventa campione olimpico 37,50 Italia, 37,51 Gran Bretagna e poi 37,70 di Andrea Degrassi, sono della canna a guardare, tutto travi, tutto travi, tutto travi